Attimi di paura attorno alle 15 di oggi lungo via Molinetto a Semonzo di Borsorelgrappa. Tre auto sono entrate in collisione, sette persone ferite di cui due minori. Due donne di 38 e 56 anni e un uomo di 31 anni sono stati condotti all'ospedale San Giacomo Apostolo di Castelfranco Veneto. Pare che a provocare il sinistro sia stato il 31enne residente a Cavaso del Tomba. Al volante di una Mercedes avrebbe preso la fiancata di una Volvo al cui interno si trovava una coppia per poi andare a tamponare violentemente una Fiat Bravo dove viaggiava una famiglia, marito, moglie e due bambini per poi finire la sua corsa sul muretto di cinta di un'abitazione. Sul posto un'automedica e due ambulanze del suo M118 di Crespano. Fortunatamente nessuno è in pericolo di vita.